La difficile situazione del trasporto ferroviario nel nostro territorio chiama in causa una riflessione complessiva sul trasporto pubblico locale che consideri l'esigenza dell'utenza e l'economia realizzabile attraverso una migliore integrazione ferro-gomma. Ne è convinta confartigianato Sondrio che ipotizza quando i flussi dei viaggiatori sono compatibili, modalità di servizio meno costose del treno, ovvero l'utilizzo del bus. Una soluzione prospettata proprio in questi giorni dal Consiglio regionale Sertori e dal Presidente della provincia della Bitta nell'incontro con l'AD di Trenord Farisè. Nel nostro territorio, prosegue la nota degli artigiani, ci sono soggetti di natura pubblica e imprese private che nel trasporto su gomma già operano con elevati standard di efficienza, sicurezza e economicità. L'attuale sistema insomma costa troppo, serve una più forte sinergia trenobus per garantire una migliore gestione delle risorse pubbliche e una risposta più efficiente ai bisogni dell'utenza locale e a quella turistica. Grazie a tutti!